Come siamo, come eravamo, la tv, bellezza. C'è proprio un vuoto di comunicazione e poi si va cercando magari in ragazze come me. Indaghiamo sui rapporti fra sesso e potere negli anni 50, 60. Sì, sì, tanto perché mento. Però vado avanti. E oggi? Sampia poco ad andare dallo psicanalista o venire da me. Le escort di oggi sono le prostitute di allora? Ma... Telepatia, sabato alle 23.50, Rai 3.